Sanremo arriva anche a Vigevano. Da diversi anni è cominciata la moda del Fanta Sanremo e i giovani non vedono l'ora di parteciparvi. Ma cos'è il Fanta Sanremo? Si tratta di un fantasy game incentrato sul festival della canzone italiana. Consiste nell'organizzare e gestire squadre virtuali, ciascuna formata da 5 artisti in gara. Uno di loro deve necessariamente esserne capitano. Ogni anno il regolamento cambia modo di far acquisire o perdere punti. Conta la classifica finale del festival, ma anche eventi particolari che possono succedere sul palco. Le squadre, una volta formate, possono iscriversi alle leghe. Si tratta di campionati tra squadre e di amici. A Vigevano sono centinaia le squadre già formate. Siamo andati a conoscere gli ideatori di una lega che si ritrovano in un bar del centro. Un'idea che ci è venuta perché sapendo che piano piano questo Fanta Sanremo sta prendendo sempre più piede in Italia, abbiamo capito che alle persone avrebbe fatto piacere partecipare ad una lega della Domus. E inoltre abbiamo anche pensato di premiare la lega vincente, ossia chi si è impegnato di più a creare con i baudi la propria lega. Insomma la lega vincente potrebbe avere, cioè riceverà un premio. Al momento sono iscritte 38 squadre e le iscrizioni restano aperte fino al giorno prima dell'inizio del festival. Ci sono un sacco di ragazzi e ragazze che hanno preso parte al progetto attivamente, quindi diciamo che ha funzionato. Siamo riusciti anche un po' a fare gruppo, anche con persone che non conosciamo, che non hanno mai frequentato la Domus. Anche a livello culturale si inizia a parlare anche un po' di più di musica, anche con le persone, comunque con i ragazzi più giovani di noi, che magari hanno anche un'altra cultura musicale rispetto a noi, è anche interessante sentire l'opinione degli altri. Un modo per coinvolgere i più giovani, anche attraverso i social, ad un pezzo di storia italiana. Grazie a tutti.